Lancia, un marchio celebre per lo stile, la classe e l'evoluzione tecnica. Un passato ricco di gloria e di successi. Un marchio famoso grazie a modelli che hanno fatto la storia dell'auto e delle corse. Una casa oggi delegata al ruolo di fabbrica di utilità di snob e politicamente corrette. Scopo di questo video non è quello di ricercare cause e responsabili nella volontà politica nazionale, nelle brame della finanza internazionale, nella manifesta incapacità gestionale di alcuni manager del gruppo o nelle esternazioni di liquidatori e maglioncino. Il fine è quello di far conoscere 10 modelli che avrebbero delineato un differente epilogo per la Lancia. Modelli arrivati a un passo dalla produzione e cancellati per deliberate scelte aziendali, delineando la sorte che lo stesso gruppo, o chi per esso, aveva deciso per la casa di Chivasso, un gioiello ambito che non ha saputo o voluto valorizzare. 1976, arriva la nuova miraglia di casa Lancia, la Gamma. Ad una meccanica raffinata ma delicata è abbinato un design sconcertante, una linea fastback carica di forzature stilistiche e particolari barocchi. Sarà un flop. Decisamente più riuscita la versione coupé, magistralmente disegnata da Aldo Brovarone e considerata una delle più belle auto degli anni 70. 1980, la Pininfarina realizza la Gamma Scala, berlina a quattro porte sul design della gamma coupé che produceva. Più equilibrata ed elegante della berlina di serie, aveva tutte le carte per risollevare le vendite del modello. Restò una maquette da esibire ai saloni. Dopo la semisconosciuta gamma Shotting Break, bellissima variante wagon della coupé, al Salone di Parigi del 1982 la Pininfarina mostra un'originale giardinetta denominata Olgiata. Ha un design elegantissimo e moderno, caratterizzato da cristalli bruniti e avvolgenti, una particolare ala posteriore, frontale periodinamico, riusciti abbinamenti cromatici e materiali molto ricercati. La risposta del pubblico è favorevole, ma rimane un esemplare unico. 1988, la Delta KF Integrale è al suo secondo titolo mondiale rally. Vanta una meccanica all'avanguardia e prestazioni eccezionali. Su questa base la Pininfarina costruisce una bellissima coupé, dal design livigato e innovativo. L'equilibrio formale è perfetto, l'armonia della linea è enfatizzata da studiati accostamenti cromatici e finalizzata ad un'aerodinamica eccellente. Anche gli interni mostrano un design riuscito per particolari e materiali. Il telaio è realizzato con un innovativo materiale chiamato Nomex, mentre la carrozzeria è in vetroresina e materiale plastico. Grazie alla particolare costruzione, la HIT riduce 1215 kg della Delta KF Integrale di produzione ad appena 980 kg, portando le prestazioni e la tenuta di strada a livelli assoluti. Il successo commerciale era certo, restò un pezzo da museo. La tema 832, meglio conosciuta come tema Ferrari, è la dimostrazione della riconosciuta supremazia dell'inventiva italiana. Un'auto raffinata ed esclusiva che abbinava sotto la stessa carrozzeria due marchi emblematici e tanti contenuti. Una vettura che aveva un limite, la trazione anteriore abbinata a un motore decisamente potente che decretava un carattere nervoso in caso di guida sportiva. Alla fine degli anni 80, la Lancia stava sviluppando una versione decisamente più raffinata ed evoluta, la tema 832 4x4. La vettura montava un motore con cilindrata portata a 3200 cm3 e potenza cresciuta di circa 30 CV rispetto ai 215 della versione in produzione. In quegli anni, in quanto a trazione integrale, Lancia non era seconda a nessuno. Una berlina sportiva così realizzata sarebbe stata unica per contenuti tecnici ed equipaggiamento. Inspiegabilmente venne bloccata a pochi mesi prima di nascere. 1992. L'inglese Yad presenta una bellissima coupé su base Lancia-Dedra integrale. Caratterizzato da un design ricercato, aggressivo ed elegante, è un prototipo che sfrutta tutte le tecnologie più all'avanguardia del periodo per una definizione ottimale. Il design, i materiali degli interni e la raffinata meccanica sono propri della tradizione Lancia. Il tutto porta alla creazione di una vettura esclusiva, un prodotto di nicchia, pronto alla produzione, ma anche la magia non avrà seguito. La Delta 836 non ebbe il successo che la Lancia sperava. Hardwell compito di sostituire un modello riuscito come la Delta classica. Imperdonabile l'assenza di una versione HF a quattro ruote motrici, l'erede della mitica e mitizzata Delta HF integrale. Versione che era nei programmi della casa e in avanzato stadio di sviluppo e che avrebbe trainato le vendite del modello. Una vettura da schierare nel campionato mondiale Rallis. Ma in Fiat, con una scelta accelerata, si decise di chiudere definitivamente le porte della squadra Corsa e Lancia e di rottare uomini e finanziamenti sul programma sportivo Alfa Romeo nei campionati turismo. Di conseguenza, anche la versione di serie venne cancellata e fu un'altra occasione mancata. 1994. Alla presentazione della Cappa la reazione del pubblico non fu entusiastica. Nonostante innegabili qualità e una costruzione accurata, non aveva l'appil necessario alla degna erede della Tenor. La Cappa non era brutta e il passare del tempo le sta rendendo giustizia, ma alcune scelte nella definizione del design finale non erano adeguate alla classe della vettura. Le vendite non decollarono, gravate anche da alcuni evitabili difetti congeniti dei primi esemplari. Si posò di medio con alcuni miglioramenti e con nuove varianti, le versioni station wagon e coupé. Seguendo la filosofia del minima spesa massima resa, la Fiat accorciò la Cappa berlina realizzando una coupé tozza e poco slanciata, anche se indiscutibilmente originale. Aveva doti innegabili, tra cui una tenuta di strada e una maneggevolezza superlative, ma restava una vettura dal design poco riuscito e non ebbe successo. Di certo, la storia sarebbe andata diversamente se in Fiat avessero accettato il progetto di Bertone. Denominato kayak venne presentato al Salone di Torino del 1995. Il design raffinato ed originalissimo mostrava dettami tipici dell'atelier di Bertone e voleva riproporre le caratteristiche di classe design che hanno reso celebri le coupé lancia del passato. La kayak riscosse un successo notevole. A riguardo circola un aneddoto che non è stato mai smentito. Pare che durante una visita al stand del Salone di Torino, Gianni Agnelli, dopo essersi fermato ad ammirare la kayak, si sia rivolto ai quadri che lo accompagnavano, esprimendo ammirazione, pensando che fosse la cappa coupé di casa Lancia. Ma uno dei suoi accompagnatori, dopo aver indicato la cappa coupé blu esposta allo stand Lancia, abbia detto, Avvocato, la nostra è quella. L'espressione di delusione di Agnelli fu emblematica e la kayak è un grande rimpianto. La Y del 1995 è un modello dal design originalissimo e dal clamoroso successo di vendite. Alla gamma iniziale mancava una versione espressamente sportiva. In Lancia si pensa a una versione freggiata del marchio HF che doveva sfruttare la meccanica della più cattiva delle punto, la GT Turbo o quella della Fiat Barchetta. In entrambi i casi sarebbe stato un modello interessante, ma l'unica versione sportiva della Y resta la riuscita e sottovalutata elefantino rosso 16 valvole. Ma non è la stessa cosa, anche se resta l'ultimo modello dichiaratamente sportivo della Lancia. Salone di Barcellona 2003. Il centro stile Lancia presenta la Gran Turismo Stil Novo, proposta di berlina sportiva compatta basata sul pianale della Fiat Stilo. design innovativo con tanti elementi della tradizione Lancia. Ricercati giochi di luce e volumi delineano un insieme originale ed equilibrato, dal quale emergono particolari che caratterizzeranno le poche realizzazioni Lancia degli anni a venire. Dalle sue forme nascerà la New Delta del 2008, ma questa piacevole compatta resterà un prototipo. 2003. Il centro stile Lancia, guidato da Flavio Manzoni, presenta la Fulvia Concept, un piacevole coupé che richiama nel design l'indimenticabile Fulvia coupé del 1965. Realizzato in alluminio e basato sul pianale e sulla meccanica della Fiat Barchetta, questo prototipo è in realtà una vettura perfettamente funzionante e definita in ogni aspetto. Una vettura che può essere messa in produzione in tempi brevi e con investimenti contenuti. Tutti i particolari esterni ed interni sono un omaggio alla mitica Fulvietta. L'accoglienza è incredibilmente calorosa e sembra certo il suo lancio sul mercato, ma, come troppo spesso è avvenuto, anche lei viene soppressa prima di nascere e rimane il più grande rimpianto della Lancia degli ultimi 40 anni. La Fiat Barchetta